Buonasera e ben ritrovati con il notiziario di prealpina.it. Quest'edizione del TG si apre con la cronaca. Restano gravi le condizioni del ciclista di 67 anni investito questa mattina a Ferno mentre pedalava a lungo via Garibaldi. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 11.30, la ricostruzione della dinamica è affidata ora alla polizia locale. L'uomo ha ricevuto le cure dell'equip dell'ambulanza della Reu e quindi di quelle dell'elisoccorso decollato dall'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo che poi ha provveduto a trasportarla all'ospedale Circolo di Varese. Ora l'uomo è ricoverato in prognosi riservata. A Varese continua a fare discutere la notizia dell'imprenditore arrestato stamattina dalla Guardia di Finanza con l'accusa di aver approfittato dell'emergenza Covid per mettere a segno una truffa dal valore di poco meno di mezzo milione di euro. L'imprenditore residente a Varese è stato arrestato dalla Finanza con l'accusa di aver raggirato la società Aria S.P.A. e Aller Milano omettendo la fornitura di migliaia di mascherine pagate centinaia di migliaia di euro approfittando dell'emergenza Covid. All'uomo ora i domiciliari sono stati sequestrati bene per circa 460 mila euro. Le indagini hanno ricostruito come l'imprenditore si è riuscito ad aggiudicarsi la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e a incassare il compenso senza mai consegnare una sola mascherina. Andiamo ora alla Schiranna dove oggi all'ora di pranzo i volontari militari della Nato, i medici e gli infermieri impegnati nel centro vaccinale hanno avuto una gradita sorpresa. Valerio Torre, titolare di una pizzeria di azzate, si è presentato al centro con una cinquantina di pizze fumanti. È stato il suo modo per dire grazie all'esercito silenzioso che in questi giorni si sta impegnando nella battaglia contro il virus. Ai volontari, rimasti senza parole, non è rimasto altro da fare che approfittare dell'inatteso gesto di solidarietà. Ora invece andiamo a Busta Arsizio per ascoltare le proteste dei commercianti di Piazza Vittoria Emanuele, in servizio di Carlo Colombo con immagini dell'Agenzia Blitz. Gli interventi che interesseranno Piazza Vittoria Emanuele II si concentreranno sulla pavimentazione sulle fontane. Entrambe verranno ripristinate e riportate alle rispettive condizioni originarie. Si tratta infatti di un ripristino della pavimentazione usurata, che mostra piastrelle rotte in più punti della piazza, ed è la rimessa in funzione delle due fontane a raso che hanno mostrato ben poco le loro qualità da quando sono comparse. Un altro intervento riguarderà la posa di cancelli a separazione delle due piazze. La Vittoria Emanuele è quella interna alla residenza del Conte. Tali cancelli potranno così essere chiusi di notte a maggiore tutela della quiete pubblica, considerati numerosi episodi di vandalismo che si sono registrati e ancora si registrano dalla comparsa della nuova piazza. Intanto i negozianti ironizzano. Questa è una piazza degna di Milano, finalmente possiamo dire che Busto segue il capoluogo regionale a ruota, afferma Anna Nedalini, antiquaria. Il senso è di facile intuizione. Sembra la fabbrica dell'uomo, non è mai finita. Per chiudere una notizia di sport. Delusione per la prestazione dell'azzatese Niccolò Martineghi agli europei di Budapest. Nella prova dei 100 rana Tete è rimasto fuori dal podio, arrivando quinto. Eppure agli assoluti primaverili di aprile Martineghi aveva fatto faville con un doppio record italiano ai tempi che hanno scalato le classifiche mondiali, 26 e 47 nei 50, 58 e 37 nei 100. Adesso per l'azzatese è il momento di pensare a Tokyo. E con questo è tutto. L'appuntamento è per domani al notiziario alle 13. Buona serata.